Ok, bravissima. Elena, prendi le tre torce, torni là, passo indietro, stop, no no, ti entro, ti entro, non sei verità. Passa avanti, mano destra sua Alessandro, guarda lei, guarda lui, al mio tra Elena, gliele passi una dopo l'altra. Non sto scherzando Elena, le fa caldo, allora indicami un bambino veloce, indica un bambino, dai, indicamelo. E dagli fuoco, dagli fuoco, dai. Se sei furbo ti risiedi. Ha capito? Allora, stiamo andando bene. Elena, girati verso di me, passami una torcia alla volta, dal basso verso l'alto, non fare cazzate, solo. No, no, tienile su, ti spiego, passo l'alto, dal basso verso l'alto me la lanci delicatamente, sulla mano libera, vai. Quando te lo dico io è il tre, è meglio, ok? Vai con la seconda torcia, sulla mano libera, vai deciso, su. De madre. Uno, due, tre, vai. Ok, stai andando molto bene Elena, sei così brava che al mio tre te ne lancio due e tutto bene. Attento che se arrivano lunghe, brucio. No, no, non fare stupidaggine che ieri è morto uno. Elena, fai un passo l'alto, vieni verso me, al mio tre, ti lanci la terza torcia, sulla terza mano. Elena è tutta felice. Non voglio consigliarti da che la pronunciarlo, ok? Questo è l'esame per entrare alla ceca. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, bingo signori! Me lo devi lanciare al tre Elena, ok? Uno, uno, due, tre, vai, vai. Cebu, Alex Del Piero l'aveva capito. Uno, due, tre, lancia sta cazzetto. Oh, no, 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 vai, prendila di nuovo. Uno, due, tre, vai. Incredibile male. Vai, vai, vai. Vai, vai, prendimelo una volta, me le devi togliere. Ehi, soffia, 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 soffia. E bruciati le balline. Signori, signori, fate un altro uso. Come siete da questi due? E la stessa, vale, su. Adesso ve lo siete meritato, un piccolo numero al fondo, perché ve lo siete meritato? Perché è la fine del petto. Ste cazze a fondo male. Grazie. Grazie.